La ventunesima puntata del libricino del muori Meno 4 Subito Senza introduzione Perché ne voglio fare di più Sto a rallentare non va bene La devo smettere di chiudere ma editare Devo mettere meno scrittine Non succederà mai Mi chiuderò sempre di più Creperò qua davanti Notte e giorno Finché non rimarrò solo cenere bianca Comincia Con altra riunione della Yotsuba Oh ma sempre qui stiamo Che senso ha guadagnare? Se lavoriamo sempre di più E non avemo tempo per noi Ottima domanda Ma Coil sa Coil Perché con un nuovo rapporto bait Dice che Misa è stata interrogata da Elle E che è grande fan di Kira Stop Che era accusata di essere secondo Kira Niente? Va bene Però anche questo sanno eh Compresa la morte dei suoi genitori E successiva vendetta inconsapevole di Kira Tutto questo è stato confermato dalla sorella di Misa Perfetto Che cos'è la sorella di Misa? Misa c'ha una sorella? Sì No Forse Non si capisce In teoria Si dovrebbe chiamare Asa La menzioneranno solo in questi capitoli E poi mai più Sorella maggiore Che viva Chioto Basta Ma può essere pure Che faccia parte del piano Che hanno fatto la puntata prima Che non esista Quindi boh E i casi da vita L'unica modella Idol, attrice, instagrammer, tiktoker Scappata da casa, rimastina Che ci hanno proposto Proposto dal manager Che ci stava a spia Sospettissimo Nella riunione segretissima E morto in circostanze stradissime È lei Eh, che te devo dire Succede Pure sospettata da Sekira Si vede che è una che si è data fa Ma a me Francamente Lor signori Assumere la suddetta giovinetta Me pare una cazzata Che volgare Maledetto contono che m'ha fatto un curiosì Continua un po' Non dovremmo essere noi a indagà Lasciamo fa a Coil Che lo pagamo a fa? Perché non lo invitiamo qua? Ma sì Quello che ci aveva minacciato di spiffera tutto Se no lo pagavamo Perché no? Che vuoi che succeda? È un'idea nostra Mica ci hanno manipolato Vedi che succede con le raccomandazioni I figli, i nipoti, i congiunti, i gerundi Al vertice dell'azienda Ci finiscono i ricoglioni Gli imbellei Tranne Namikawa Perché è stanco Butta Coelle E vabbè E Shimura Tagliatissimo Che lo dice? Sempre lui quello che fa Regà Ma che ne sapeva Coil Che ci hanno proposto Misa? Avrà indagato sull'agenzia Ma è venuto una sola volta Nessuno vuole ascoltarti Shimura St'hanno pure tagliato nell'anime Sta buono Ricordate Atori Torniamo dal terzo Kira Che l'abbiamo visto pure prima Antonia Però vabbè Davanti allo schermo LCD Che lavora E cominciamo a vederlo sempre di più A riconoscerlo quasi Spiegoni vari dopo Capisce che Misa Ha dovuto rinunciare al libricino del muori Che sia questo libricino del muori Perché questo è il libricino dei Misa E ho the light Mo non mi ricordo Ma mi sa che ho detto Che era quello dei Misa E ho detto una cazzo Lo scopriremo presto E quindi Che vuoi fa? È semplice Sposare Misa Mane E no E no Perché no Rem Ha intenzioni serie Mica ha detto Dagli una botta No Con volare A giuste Nozzi Dopodiché le farò una bella assicurazione sulla vita E gli darò una botta In testa però E no Lo vedi? Rem Nascondi tu il paderno nel solito posto Come Rem Gente è stata portata alla pazzia anche solo per nasconderlo Citte La soluzione Fallo tu Ma perché così Rem Ha il pretesto Per strappare un pezzettino del libricino Perché sì Gli Shinigami Fanno Come cazzo gli fare? Siamo dei pupazzetti in mano loro Cioè cazzo Rem Ma scrivi tutti sul quaderno Pure Misa E vaffanculo Ma non c'è la regola Lo Shinigami non può remare contro il possessore del quaderno Porco Giuda No E lo dice pure Nel fumetto Ma qua Redi Shinigami non fai regole retroattive Giustizia per Minoru Cambio scena I nostri si preparano Per la mission impossibile E Azione E Te piace Kira Ma cosa mi tici male? Ma lei è posso Io la querelo Diffamazione Lei non sa chi sono Io la distruggo Si è fatta un nemico potente Passiamo il movimento Tu vieni da lì Scendi dalle scale Torni indietro Ti guardi intorno Ci pensi Guardando a filo macchina 8x12 Si adesso non ci pensavi Fai il calcolo Guardando in quella direzione Ma il mio personaggio È una matematica Una matematica E il suo sogno nel cassetto Insieme al quaderno E non te mette niente Che meno te muovi E meno danni fai Misa Comincia a rosicare un pochetto Perché ora L si sfoga su di lei Sei un buelletto? Non sarò la nuova Mazzuta Il gran giorno arriva Senti Mochi Moji? Ma io te chiamo Mochi Perché è kawaii Ma a me te resti chiede se me sta bene È vero che sei nato a martellate? Ma che stoffa Io ero entrato un polizia per sparare alla gente E in mezzo alla Yotsuba C'è pure Sawyer Freebooter Nel ruolo di Coil Allora Vuoi andare in classe B? Eh? No quello era il video di prima Scusa Light Ma sei tu con l'occhiali? Semi cheat Guarda che non sei Clarkette Te riconosco Sei preoccupato per me Sei venuto a controllare Tranquillo Li frego io a sti babbalucchi Adesso signorina Le chiederemo tutte cose Perché? Il mio ruolo si basa sull'apparire Ma noi vogliamo conoscerla meglio No non è vero Tu lo ricordi il piano? Sì Però ci ho sperato Io sono l'amministratore delegato Surrogato Hanno abboccato Ma hanno pagato Per sta qua Veramente Gli hanno dato due milioni e mezzo Dei yen in più Per far se vede in faccia Faccia che io non ho mai visto Ammichete Ne conosciuto Ammichete Ne mangiato insieme i babba Al quartier generella Dieci minuti fa Ammichete Ammichete Ma che ve conoscete? Ah abbiamo fallito Light ci ha tradito Le faremo sapere signorina Ma prima le devo dire Che sappiamo da forti certe Che Te piace Kira Ma cosa mi dici ma? No aspetta 8x12 8x12 Non ci posso credere Funzioni E certo Chi ve l'ha detto? Tu sorella Arideie E spiegone Sul fatto che Sì Gli piace Kira E che Sì È stata accusata Di essere il secondo Kira Nome in codice Scemo Kira Ma è anche stata assolta E che Sì Ho fregato il giubbotto a scuola Sono un po' cleptomare Ma a parte questo Sono brava Ma guardi che noi siamo propensissimi Ad assumere ex carcerati Ci stanno le agevolazioni statali E che ci chiedevamo? Ma per curiosità Se tante volte Avesse visto Ellen faccia Ma solo per toglierci ausfizio Che tipo è? Alto Magro Capelli lunghi Pelato Coriporto Colore dell'occhio Diastemia Segni particolari Forma del viso Ignori il fisionomista Mi dispo tante Ma ero bendata Quindi non so niente Oh e basta? Ma cos'è un interrogatorio? Sì sì Shimura Oh il mazzuta da Yotsuba Il ma Yotsuba Ma che cosa? Ha shimurito Io volevo conoscerla meglio Ah Sto a fare un'uscita da fico tenebroso Ma avranno dato O forse penserà che ho problemi alla vescica Ci devo andare pure io Anche lei li ha È come me Pausa gabinetto Ma qualcosa è sospetto Perché ci è nata da sola Eh Senza portasse un'amica Non è possibile in natura E infatti Ecco l'amica Che la tocca col pezzettino del libricino Blup La memoria non gli torna solo con pezzettino Però Cucù Ma non ti preoccupa Non mi devi leggere la borsa Un farso mito questo Cioè Se no strilli te libero Ok? Dai Ma chi te se cula strillo che si Aiuto Carro la racchetta Vuole rapir Famo che parlo io La Yotsuba è cattiva E io Tvb Torniamo dai protagonisti Perché ste puntate si stanno a scordare Con Light che studia il terzo Kira E qualcosa S'annoieturna E' annoiatino Perché sto Kira Mi pare un coglione Ma è lo stesso Kira di prima Perché il Kira di prima Benché sia cattivo Per coglia Io non uccidere mai nessuno Ma che scherzi Ma sto matto Sono troppo bello Trinciato a facerla Comunque aveva una sua etica Non uccideva per esempio I criminali Che chiedevano scus O chi si macchiava Di omicidi colposi In vesto uno Non ho fatto apposta Oddio mio Ma solo le persone cattive Veramente Questo invece no Questo ammazza indistintamente Non è che veramente Questo è un altro Kira E il Kira di prima Visto che io capisco i suoi principi Unendolo al fatto Che questo potere Allora una volta Che non lo è più veramente Ti fa perdere la memoria Come abbiamo visto con Misa Mi fa pensare Che magari Io ero il primo Kira Quello real Original Diffidate dalle imitazioni De sti coglioni E se ci fosse veramente Una piccolissima percentuale Che io possa essere Il Kira passato E come dice L Voglio che il quaderno Mi torni Forse dovrei concordare Con lui un piano Per questa eventualità Tipo dirgli Di non farmi mai Toccare il quaderno Così vincerebbe La giustizia Se fosse così Ma so io Che me sto a fare paranoie Sarà colpa Dalla quarantena Sto a diventare ansioso E poi nemmeno L Gli ha parlato Delle differenze Tra questo Kira E quello di prima Perché? Detto qualcosa? Io non sono Kira Continuo a ripetertelo Light è Kira Dimme Che sta a fa? No 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 Dimme? No 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 Ecco dice Morse Vediamo Sof F F C Oh scus Ho tue domande Dimme Sei un mollestatore E perché tu ti io? No anzi Noi eravamo Best friends forever C'è stato un tempo In cui noi due Facevamo diverse cose insieme Perché tu ti io? Non hai capito E mi perdonerà Ma appena volta Non è colpa mia Che sei te? Spiegone E te pareva Però ci sta Perché lei non si ricorda niente Quindi Libricino del muori Splat Splat Kira Kami Ma te eri meglio Te eri pure più forte de lui E non permettere mai a nessun uomo Donna scina Sti rischio di dirti il contrario Ok Quello sa la sente galla Ma è una scoreggina Dovevo creparla La puntata 14 Posso farlo ora Così se nannamo E te rifai una vita Fuori da sta relazione Tossicissima Ma è tanto bravo Light Ma quindi Che sei te? Ma ti ho appena fatto Lo spiego Onde c'avo io adesso? Non ho capito Ma mi fido Sai tutto di me E non ci stanno ancora Facebook Kira Gram TikTok Quindi me ne riconosce Per forza Perché non vale più Sta scusa Insomma Vuoi rimanere con Light? Sì Anche se palesemente Non ti ama Su quattro puntate Che te lo dice Quello che dice lui Non è importante Hai capito Che anche se lo fa Una donna Verso un uomo Non è kawaii Ma è sempre stalking Nooo E non me sta bene Che dici così Non ci si mette in mezzo Tra me e l'amore Me butto sull'autostrada Rem Sento questo impulso E non so perché Non sei cambiata Per niente Ti darò una mano Ma perché Rem Non è un sentimento sano Quello di Misa Light gli ha detto No Noo Tu l'hai buttata An cacera Sotto trama comica Ma no Vuol dire Noo Tese amica sua Io pure da una mano Il tuo compito E faglielo capire Ma guarda quant'è piccina Una pulcina Come fai a digliete no Pare facile Noo E adesso Ho capito Che forse Light aveva ragione Vedendo come si comporta Questo terzo Kira Ho cominciato A empatizzare Con Light Attenzione Rem qua Passa dalla parte De Light Sta puntata hanno tagliato Abbastanza del manga Eh mannaggia Perché te spiega Che per questo Ora non può più Ammazzare Né L Né il terzo Kira Perché se Ora Dà una mano A Light Ora Che gli vuole Un po' Beh Ma bene Lo capisco Un po' Ma bene Ma non voglio bene A nessuno Comunque sia Ora Morirebbe E che cazzo Ma chi la conosce Ma poteva ammazzarla La puntata Che t'ho chiesto Lo vedete Che è tutta qua La differenza Nel sentimento Però Eh Rem Mi fai sti errori Non ci si china Per parlare Alle persone più basse Ma questo È simbolico A bestia Per me Cioè Perché più che chinarsi Si inginocchia Un cavaliere Proprio Bri Rem Al servizio De Misa Perché gli vuole Bene Allora Fammi tornacchina Eh Altra cosa Perché qua Rem spiega Un botto De cose Un botto De dubbi Che c'avete E io mo te li dico Alcuni Tipo che il Rem Non vuole Che Misa Torni il secondo Kira Perché già è accorciato La tua vita È rischiato De schioppa Per lui Davvero Eh sì Come so brava E poi Gli shinigami Non possono agire Secondo la loro volontà Devono aspettare Gli ordini Del re Man c'è i credi Manco te E valla di Ariuk Vai No ma A me è caduto Il quaderno Sono così distratto Sìììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììììì no ma io lo amo non potrei sopravvivere se morisse ma perché lo faresti anche tu mi ami misa dai lascia perde e poi anche io sono femmina e che vorrebbe dire occhio rem lo shinizan te fa passare ste cose io sono per la famiglia tradizionale uomo donne shinigami al seguito va bene e poi femmina perché dove no shinizan loro nel senso vorrei capire dei sessi degli shinigami gender ne parleremo nelle prossime puntate quando tornerai alla riunione starò dietro al terzo kira perché gli devo sta sempre appresso così scoprirai chi è ma soprattutto lo scoprirà il pubblico che so partite scommesse i sordi roggiti delle case chi sarà piton freebooter morfeus freebooter owen wilson freebooter pacciani no igushi quello talmente anonimo che manca un soprannome c'aveva po' per peggio io comunque l'ho già spoilerato quelli da yotsuba sgamati per colpa do shinigami shinizgami colpa vostra che me vedete video colpa vostra ve lo sareste mai aspettato igushi io no po po zero non ci avevo capito niente ma è più bello così che lo scopri con la trama regolette del muori gli shinigami fanno come cazzo gli pare e to ho detto nel senso che possono scrivere sul libricino degli altri shinigami eppure scambiarsi sembra una regola un po così ma sarà fondamentale tra un pochetto nei boschi ha capito seconda regoletta se un dio della morte usa il quaderno per allungare la vita di un essere umano che gli sta simpatico e il pensiero corre a gelos piccolo angelo allora quello shinigami schiopperà per approfondimenti puntata 12 ben ghiro schiori video belli video freschi e signora forse dagli ed emisa misa che è in ritardo e manco ci avvisa arriva subito dopo ma lo vedi che devi stazzito scus mi mancavi ma sulla buonezza misa non è la stessa cosa ma allora mi vuoi adesso fai come la puntata 19 cioè va in bagno ma come sono stanca e molesti light uomo oggetto oggetto in questo caso sedia perché l'hai te ma l'utilizzo affascinante simpatico modesto fai affetta fortuna di studiare sta parere talentuoso empatico sicurrezzi elegante ponietico obiettivo atletico comprensivo pensasio gentilu amato credito sognatore ammirevole rispettoso premuro son riflessivo meritevole e confortevole ma che cazzo dici ormai l'ho detto ma non è un aggettivo per un essere umano ormai lo sei è sinonimo di ospitale accogliente ecco accogliente mi piacete bene ti siete meritevole accogliente perché ti ho fatto entrare nella mia vita e non so perché perché glielo devi di ma glielo ho detto alla puntata prima glielo devi ripete lo sai non capisce mai alla prima botta è anche corpo a tua light è anche corpo a tua victim shaming insomma com'annata qui lo dico ma non stiamo in sfida con l'altro gruppo off e scrinne nel fumetto abbiamo deciso che era una cazzata e già siamo tornati tutti insieme ah comunque ne ho rimorchiati tre solo infatti e l'altro i quattro cos'ho che non va bene ho deciso di uscire con loro per poterli spiare no ma sei geloso arse te che te spiego off e scrinne nel fumetto abbiamo deciso che è troppo pericoloso per te non sei in grado ma do cazzo vai è meglio per tutti se fai la modella e basta misa rosica sempre di più ho capito ha capito ha capito qualcosa senza che io ripetessero non è possibile in natura perché infatti non ci ha capito un cazzo o meglio ha capito quello che gli pareva light si preoccupa per me lei deve accettare un no come risposta signorina no perché adesso aspetta è il mio ora ho io un deja vu momento porco giuda n'altra mazzuda la scenetta non può finire senza l'ennesimo sfonnone de misa perché non dormi con me perché da quando sei conoscemo che te dico che non mi piaci ah ho capito ha capito un'altra cosa c'è qualcosa che non so sei timido questa è mascolinità tossica ma con quella gonna così corta cosa delle cerchi sta parlando ancora con me se aveste bevuto qualche bicchierino in meno forse avreste evitato l'increscioso approccio è veramente questo il mondo in cui vivo viene voglia di cambiarlo misa finisce di lavorare e usa la toilette vado a finire sospetto un'altra volta da sola no dopo la complicatissima bussata di riconoscimento non devi pretendere troppo da misa ecco un'amica sei uno shinigami pure tu ma ha detto te devi venire giusto perché con un abile travestimento da infermiera che ti dona tantissimo vici non è un farzo comprimento per senti che sta meglio a te no no sii misa riesce a liberarsi dei guardie va ora in onda la vera missione impossibile il triplo gioco gioca per la yotsuba gioca per l'aitelle e gioca per se stessa slelle win patto misa amane fase 1 andare a un appuntamento con i guci che è venuto a pia alla cormaginone le lamborghini murci e leago basta c'è il pipino piccolo vero proporzionato al mio saperlo usare che quello conta intanto mochi scansiona la fake misa strano stavi meglio prima con sto outfit e infatti non è lei mi ha fregato doveva usci con uno mi ha fregato e sta tradendo light ma che cosa anzi falle conoscere altri uomini che se scolla se scuella ecco magari non questo de uomo che misa si ricorda è quello che gli voleva fa fa l'attrice ma già la faccio l'attrice vai misa ce la puoi fare prendi la larga non lo fan sospetti misa na mamma gna va bene a un certo è l'anguorino lo sai perché perché posso uccidere le persone brava misa grande spia la vedova misa mi sta chiedendo di fallo secco se fa cose strane e se non le uccido io le persone c'è chi di dovere che lo farà la puntata me sta a distruggere questa puntata de misa non ho più la tiroide comunque si mo sta chiede diciamo che come conversazione al primo appuntamento i primi cinque minuti c'è sta i guci non è che a costa portiera arrivederci punto su una da amiche due no vuole conoscerla meglio c'è presente quello che ho detto a riunione che mi avevano accusato ma non era vero niente tutte cazzate io sono il secondo kira portiera arrivederci e voglio concedere la mia innocenza solo al vero kira o comunque quello che ne fate invece adesso me sta bene uguale aspetta un po aspetta richiudo la portiera i guci già voleva convolare a giuste nozze con misa ma eppure il secondo kira che gli è potta una mano con gli occhi del muori so due piccioni due farfetch con una fava come si suol dire a biancavillea all'isola cannelle non smetterò mai e capisce anche che il suo quaderno è quello del primo kira perché il secondo evidentemente c'è la lei secondo lui ha sbagliato come me ma gli è pia bene e fa la mossa la mossa che fanno tutti i possessori del quaderno del muoio impari pure sta skill nel pacchetto ride come un figlio della mignota no meh lei te ride meglio allora ama mia madre perché io sono kira il terzo questo funzionerà o meglio del così forse penserà che me sto a vantà troppo ma che cazzo stai a dire te giuro ma non è vero un cazzo te dico fidate no dimostriamocelo a vicenda così de botto senza senso si ok ma io uccido solo i cattivi o i giornalisti innocenti ma quella è un'altra storia quindi convenientissimo portatile che si porta sempre a presso perché gli smartphone ancora non c'è stavano quindi e voilà no youtube anch'io è bravo non lo voglio uccide questo è robbermano strozzicini un cravattaro che se te presta 10 euro puoi voler 666% di interessi ok adesso userò il mio potere rem capisce che deve dà una mano a misa e uccide robbermano questo non influisce sulla sua durata vitale non è che robbermano la stava per ammazzà anche se uno potrebbe obiettare dicendo ok ma se rem non gli dava una mano e lei non ammazzava nessuno i guci dopo avergli detto di essere kira avrebbe potuto pure pensare di uccidela a questa copia per culo e in un certo senso allora assecondandola gli ha salvato la vita ma comunque l'operazione mosvago procede rem che sta a fa' disegnini scrivo pensieri i cazzi mia ok e che cos'è controlliamo come sta robbermano pronto mi scus ma il capo gli è preso un corpo la prego di richiamare più tardi e se sei uno che ci deve da sordi te richiamamo noi non te preoccupa è tutto vero misa è il secondo kira ehi guci fa la super mossa misotta mia come ti desidero no lo scinicolling no e per due nomi comunque io già l'avevo capito questo eh purello il maginone il fatto che non sia scappato dalla follia di questa appena gli è detto io ammazzo la gente si attacca a tutto piccolo angelo ma mi sa che è da strada e quindi leve te che te da un cascio che te farà venire la voce come la mia non è un rifiuto eh ottimo ma me devi dimostrare che tu sei kira io la mia parte l'ho fatta hai ragione andiamo a casa mia a vedere la collezione di carte d'identità ma io posso uscire solo a casa capisci no sempre allusioni perché me serve il quaderno non se lo dicono perché se te uno dimostrare se kira a vicenda tanto come cazzo fa a sapere del quaderno se no l'altra volta mica era andata così perché non se dicono shinigami perché ancora sospettano come si vede nel fumetto ma soprattutto perché non è ancora il momento di farlo scoprire ai nostri eroi l'esistenza de sto quaderno visto che la conversazione è stata registrata come fedez come farà allora i guci a provare di essere kira visto che misa non è andata a casa sua smettendo di ammazzare gente buona idea rivedesse domani portando del quaderno un pezzetto e ammazzare qualcuno come ha fatto lei no? va bene meglio spiattellare tutto e smette pure di ammazzare gente lo chiameremo S-kira simp-kira no? ma c'è già scemo kira con la S va come si bisce il telefono misa proprio fiera e fa bene perché chi era la rincoglionita? chi è che ha fatto confessare kira e ha stoppato le morti? e come hai fatto? con la mia dimossa e qual è? presentamme oh pare una cazzata ma fa sempre così e funziona sempre forse ha ragione lei forse sti cervellotici macchiavellici pianificatori fagiani soggetti guardie un po' di meno un po' di meno ragionano troppo e misa invece le cose te dice in faccia misa intelligenza sociale ai massimi no come L che infatti ce pensa sia Mazzuda che Misa alla fine hanno fatto delle cose buone ma non è che lo stronzo so io ma non è che è che non è che ho ma ma ma